Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Ruggero Marchetti. Fratelli e sorelle, amici e amiche, buona domenica, buongiorno, buon culto. Ci ritroviamo per questo terzo appuntamento, è con me l'ultimo di questo mese di giugno e ci ritroviamo ancora sull'ultima parte del libro di Giobbe. Andremo avanti e vedremo come Giobbe reagisce al lungo discorso che Dio gli fa. Ci vogliamo mettere nella riconoscenza alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Dice il salmista, il Signore è stato il mio sostegno. Egli mi ha tratto fuori a largo, mi ha liberato perché mi gradisce. Io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Preghiamo. O Signore, Tu, in Gesù Cristo, ci hai fatto conoscere la redenzione. Apri i nostri occhi oggi perché ancora oggi noi vediamo le opere della Tua grazie. E Ti confessiamo, unendoci al salmista come la nostra forza e il nostro Salvatore. Te lo chiediamo in Gesù, nel Suo nome, benedetto nei secoli. Amen. Tu, in Dio, la tua speranza, Egli è sempre a te vicino. Tu, con gioia e con costanza, segui il giusto e buon cammino. Spera in Dio, divina bella, Egli sostiene la sua mano. Io non cambia lui la fila, in Dio, perché i nostri occhi non cambia lui la sua mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lo ha così, apostrofato, quasi sfidato. E poi Dio prosegue a parlare, un lungo discorso, e fa sfoggio di tutto il suo potere di creatore sulla terra e nel mare, nel cielo e nella luce. E appunto parla molto a lungo e parla, in questo che è un bellissimo poema, della creazione, che è la sua volontà tratto dal nulla. E via via passerà in rassegna le stagioni, gli astri, e mostrerà a Giobbe le varie forze diverse che animano l'universo e il controllo che lui, Dio, ne ha. E gli farà toccare quasi con mano il miracolo della vita, gli mostrerà gli animali più esotici e selvaggi, un'esplosione di vitalità a corpi scattanti e forti guidati dall'istinto. Fra tutte le diverse descrizioni degli animali che colmono di sé, il capitolo 39 di questo libro, ce n'è una in particolare, quella dello struzzo, che forse vale la pena di leggere perché è un capolavoro. Rapida si muove l'ala dello struzzo, alla terra esso affida le sue uova e le lascia riscaldare nella sabbia. Si scorda che un piede le calpesta e la fiera del campo le scaccia. Maltratta i suoi piccini come stranei, non bada alla sua pena. Cosa vana? Sì, Dio gli ha fatto dimenticare la saggezza, non l'ha messo a parte dell'intelligenza. Ma se spicca il salto e corre, se la ride del cavallo e del cavaliere. Sì, è proprio un animale sciocco lo struzzo. Tanto sciocco da abbandonare la sua stessa covata, da non prendersi cura dei suoi piccoli. Ma quando quest'animale così sciocco si lancia in corsa, allora non puoi non rimanere a bocca aperta. Ammirato, perché davvero è più rapido e maestoso di un cavallo lanciato al galoppo. È un'immagine fantastica. Per me la descrizione per eccellenza della vita, che ci dice sul senso della vita e del bene e del male, forse più di un trattato di filosofia. Vivere è questo, una corsa veloce e affascinante, davanti alla quale tu dimentichi tutto. Ammiri e basta. E contagiato da quell'esplosione di vitalità ti senti vivo anche tu. E ti senti felice di vivere, di aver parte in qualche modo a quella medesima realtà che soffrirti simili spettacoli. E allora intuisci quanto le nostre idee, le distinzioni umane, tra intelligente e sciocco, giusto e ingiusto, gioia e dolore, quanto tutto questo sia relativo. E in ogni caso tutto è ugualmente parte della vita. E tutto proclama a gran voce la grandezza della vita. E allora di colui che della vita è la fonte, cioè il Signore. Davvero dovremmo leggere e rileggere, sorelle e fratelli, capitoli 38 e 39 di Giobbe, perché la vita non è stata mai descritta in termini così lirici e possenti come in questi due passi, che non a caso sono posti sulla bocca del Signore della vita. Poi, dopo aver parlato e aver portato a compimento questa rivelazione della Sua Onnipotenza, Dio si ferma un momento, fa una breve pausa. E poi, ecco il testo di oggi. Siamo all'inizio del capitolo 40, i primi cinque versetti, in cui il Signore interpella Giobbe. Li vogliamo ascoltare leggendoli direttamente dalla Bibbia. Il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse «Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta per tutto questo?» Allora Giobbe rispose al Signore e disse «Ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola. Due volte, ma non lo farò più». Benedica il Signore, la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della Sua parola. Amen. Grazie a tutti. Sous-titrage ST' 501 ... 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